...d'assister a questo big match di Coppa fra due top team di livello assoluto internazionale. Un saluto a tutti e un caloroso benvenuto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Tutto è pronto per le emozioni della sfida tra Bologna e Juventus. Ecco l'undici di partenza del Bologna. 4-5-1 votato all'attacco per loro con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, Pierluigi Pardo almeno in fase d'attacco, per far salire i due esterni passando ad un 4-3-3 dal 4-5-1. Vediamo la formazione di partenza della Juve. L'allenatore si affida a due elementi dalle spiccate capacità offensive per supportare l'unica punta di ruolo ed è dunque 4-3-3. Cerca la rete! Portiere che smenta la conclusione senza particolari problemi. Juve che non sta attraversando il suo periodo migliore, la classifica lo dimostra. Solo il tempo ci dirà se si è rotto qualcosa nella macchina perfetta delle ultime stagioni. Certo è che vedere i bianconeri arrancare così fa certamente notizia. Ma dove credono ad andare così? È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori ma stavolta è scattato in anticipo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Il portiere è sicuro, sceglie la soluzione più prudente e sparsa. Di bala. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Ecco il tiro! Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio che si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Puntuale qui Modric. Può scambiare con il compagno. Burgui. Taylor. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Si avvicina all'area. Buon possesso palla, caccia di spazi. Sané. Modric! Palo, attenzione però, è ancora buona. Cattiva sorte decisiva. La conclusione di prima per negare loro il gol del vantaggio. Patti è ormai battuto. Bentancur. Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Bentancur. Rabiot. Occhio a Modric. Grande recupero. Samaris. Si ripartirà dunque col calcio di posizione per la Juve. Burgui. Anometri a disposizione. Gran palla in mezzo. Gran palla in mezzo. Prova in porta. Pallone sul palo. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Cross. Assolutamente da cancellare questo. Poteva essere il gol del vantaggio. Conclusione che si è infronta contro i legni. Con il potere che sembrava battuto. Brutto passaggio. Recupero facile. Rabiot. Samaris. Passaggio impreciso. Pallone intercettato. Mamma mia cosa ha fatto qui. Vediamo se crossa. Si porta in mezzo. Pericolo scampato. Decisivo il difensore. Rimessa laterale a disposizione della Juve. Rabiot. Hanno provato a sfondare per vie centrali. Ma sono stati fermati. La mette in mezzo con questo pallone. Attraversione che si perde senza possibilità. Buona la lettura del difensore. Su un brutto passaggio. Gran tiro. Colpito il pallone dal difensore. Bologna che avrà a disposizione la rimessa con le mani. Occhio al traversone. Il cross non era male. Ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Marcello Goiano. Samaris. Burgui. Prova la botta. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato dai. Capita di sbagliare la colpita però. Davvero male eh. Puntuale qui Modric. E si chiude qui il primo. Il primo pallone del secondo tempo è giocato dalla Juve. Modric. Di bala. Attenzione al tiro. Ha avuto sui piedi il pallone del vantaggio. E l'ha sprecato. Palla buttata via. L'ha letta bene il difensore. Densville. Cercano di aprire la difesa avversaria. Risolve lui. Un altro ottimo passaggio. Burgui. Potrebbe crossare. Occhio al tiro. È tutto pronto con la Juve che deve difendere su questo corner. Palla messa in mezzo. Samaris. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto eh. Sopra la traversa. Reba-Bara cross. Fuori gioco. Offside. Tutto fermo. Stefano come vedi il match che attende adesso la Juventus. Avrà di fronte il Sassuolo nel prossimo incontro di A. Sarà una partita difficile e equilibrata. Aperta ogni risultato. Vanno in mezzi per farla loro. Dovranno mettercela tutta se vogliono uscire dal campo. Con una vittoria. Kimmich. Apre sulla fascia. Prova col filtrante profondo. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occhio a Modric. Mantengono un ottimo possesso palla. Modric. Modric. Il difensore è un muro su questo tiro. Bel passaggio. Marcello Gogliano. Ottimo recupero di Marcello. Lasciano la manovra agli avversari. Tutti dietro la linea della palla. Semmai pronti per le ripartenze. Rabiot. Rabiot. Dybala. Bentancur. Modric. Marcello Gogliano. Occhio all'avanzata del Bologna. Sabanis. Palo. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E non ha sbagliato. Passano a condurre. E i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol cambia sicuramente la partita. Gli avversari ora saranno costretti a scoprirsi per cercare il pari. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. La difesa alla meglio e allontana il pallone. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ne sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Palla persa. Comodamente recupera il pallone. Punta l'area. Può metterla in mezzo. È arrivata la segnalazione. L'arbitro ha fermato il gioco. La posizione è irregolare. Irregolare ma l'azione di gioco è stata molto spettacolare. Il tecnico vuole tenere alta la concentrazione. Per questo manda in campo forze fresche per difendere il risultato. È soddisfatto, direi, come stanno andando. All'interessante dello spazio. Ottimo intervento senza fronzoli. Grande attosfera adesso sugli spalti. Momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico. Un eventuale gol. Occhio a questo calcio di punizione. A questo punto della gara un gol e qui varrebbe a mettere in ghiaccio il risultato. Ora soluzione interessante ma grande sicurezza da parte del portiere. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Sané. I padroni di casa si preparano al cambio. Nessi Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Può avanzare. Marcelo Gogliano. Ottima la circolazione di palla. Eh, c'è una grande organizzazione. Tanta roba Pier. Ma tanta roba qui, eh. L'arbitro concede due minuti di recupero. Partono in contropiede. Potevano sfruttare meglio questa ripartenza. Chiemisch. Occhio al traversone. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Arbitro che manda le scelte.